Malisani, Archie, Fusilli, Simone, Patriarca, ha votato, sì. Va bene, ci siamo. No, Marzano. Ha votato? Marzano ha votato. Va bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 98, contrari 265, la Camera respinge. Siamo al 59, Mannino, accolto come raccomandazione. Va bene, andiamo avanti. 60, Mannino, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo ritira? No, chiede di intervenire. Prego. Sì, Presidente, brevissimamente solo per dire che quest'ordine del giorno, così come quello di altri colleghi, semplicemente vorrebbe dare la possibilità di utilizzare lo spazio bimbi mettendo nelle condizioni chi lo volesse utilizzare, pagando di tasca propria il personale per la custodia, perché ad oggi il regolamento che ci siamo dati impone, ed è questa la principale limitazione, di avere un bambino con un accompagnatore. Quindi non votare favorevolmente a quest'ordine del giorno, di fatto continua a rendere inutilizzato quello spazio. Grazie. Va bene, non ci sono altri interventi. Allora dichiaro aperta la votazione sul 60. Il parere è al contrario.